Lavoriamo con i giovani, lavoriamo per i giovani, lavoriamo perché questi giovani possano diventare un giorno adulti responsabili di questa comunità ed è per questo che abbiamo aderito molto volentieri al Project Work che è stato presentato dalla Camera di Commercio di Varese e con la quale abbiamo collaborato per traguardare questi obiettivi. Il progetto aveva qualcosa di più del solito percorso di alternanza scuola-lavoro l'opportunità giusta per questi ragazzi di mettersi in gioco ovvero di fare qualcosa in più che era non solo fare un percorso di alternanza scuola-lavoro ma di progettare per i servizi della cooperativa qualcosa che venisse proprio da loro. Il progetto che abbiamo presentato e realizzato che si chiama Un lavoro per e con la comunità è stato un progetto finalizzato a far conoscere ai ragazzi del liceo Marichiuri cosa significasse vivere e lavorare in un settore educativo quale quello dei servizi pomeridiani. e i ragazzi hanno vissuto quindi prima 20 ore di formazione poi altre 20 ore a contatto proprio con gli utenti dei nostri servizi. Dopodiché la terza parte di questo progetto prevedeva la creazione, la coprogettazione insieme ai nostri educatori di un laboratorio specifico per i minori coinvolti nei servizi. Questo ha consentito alla cooperativa di riflettere su quello che possono essere gli aspetti che poi creano un senso di appartenenza perché tanti dei ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno poi deciso di rimanere in cooperativa o con esperienza di volontariato piuttosto che maggiorando le ore a disposizione perché hanno potuto sul campo capire se questa professione è la professione che poi nella vita vogliono portare avanti. Invece per la cooperativa è stato un elemento sicuramente importante perché avere dei giovani all'interno dei nostri ambienti quindi con i nostri operatori fa sempre riflettere molto su quella che è la costruzione di un team vincente, di un'equipe vincente. Quindi riteniamo che sia sicuramente un'esperienza di valore da riproporre.